salve oggi sul banco di lavoro abbiamo due casse dell'aciario e Sintar 3 andiamo a vedere il problema come possiamo vedere anche queste hanno la forma praticamente distrutta il twitter col cupolino schiacciato infatti la forma come si tocca a vedere che viene via si sgretola adesso andiamo a smontarle e facciamo la riparazione un po' di piazza Ovviamente per tirarle via essendo attaccate da troppo tempo bisogna farlo con un punteruolo di traverso e a questo punto si sganciano. Memorizzare sempre i colori dei fili per il positivo e il negativo, in questo caso al positivo ci va il grigio e al negativo il bianco azzurro. Stessa cosa di sotto, poi invece i colori sono rosso nero sul positivo e bianco azzurro sempre sul negativo e adesso iniziamo a pulirli, cominciamo con l'altoparlante che avevamo già provato, in questo caso vediamo che la forma viene via. Inquadriamo bene, ok, basta niente che e per fortuna non è neanche appiccicosa nel senso che si attacca alle mani e non si è sciolta, è al punto giusto per poterla togliere bene, senza sporcarsi, lungo il bordo possiamo farlo con le mani, poi dopo utilizziamo l'alcol. Aggiungiamo il cibo, in questo caso azzurro con la mani, poi aggiungiamo il cibo di coltello, e poi aggiungiamo il cibo di coltello, in questo caso azzurro con il cibo di coltello. Aggiungiamo il cibo di coltello, questo è un cibo di coltello che è costata da quello, Quando si fa questa operazione l'importante è tenere sotto con il dito pollice che torna bene sollevato il cono in modo che stia fermo e non vada a sbattere sulla bobina. Quindi non si danneggia niente. Ok. A questo punto tolta il grosso andiamo a inumidire con l'alcol. Allontaniamo un po' l'obiettivo. Ok. La stessa procedura con l'alcol andiamo a inumidire tutte le parti interessate. E poi sul cono. Anche in questo caso andiamo a pulirlo completamente. Come si è tolto la polvere. Così lo laviamo completamente. Adesso con la spatola andiamo a pulire. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso facciamo il cestello, il cono. Sempre con il bisturi. Facciamo vedere, viene via perfettamente. Sempre tenendo il dito sotto. Io a volte metto le spugne, a volte tengo il dito, perché dipende poi dal tipo di altoparlante, se è più o meno robusto, se è più o meno acevole l'operazione. In questo caso è abbastanza acevole, perciò lo faccio col dito. Ok, vediamo un'altra pulita. Grazie a tutti. Togliamo gli ultimi residui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ultimo pulita. E poi lo lasciamo ad asciugare. Ok. Possiamo vedere, bello pulito, lavato, manca solo di stirare, siamo a posto. Adesso lo lasciamo asciugare e poi andiamo a montare la forma. bene. Bene, adesso l'ultoparlante è asciutto, la prima operazione da fare è quella di andare a togliere tutto intorno al collante. Tutto intorno il collante residuo che straborda dal bordo del cono. questo perché? Questo perché? Perché si potrebbe anche lasciare. il collante che esce fuori, questa che si vede, potrebbe dare fastidio alla curvatura della forma. Noi andiamo a rifilare tutto, ho visto altoparlanti purtroppo che mi hanno portato in riparazione che hanno questo collante strappato via e hanno rovinato anche il cartone. Non bisogna mai toglierlo il collante residuo sul cartone soprattutto perché si va a intaccare la stabilità e la struttura del cono stesso. Perciò tanto non serve a nulla toglierlo. Non è che cambi in sostanza né la qualità del suono né niente perché in pratica è un decimo di millimetro di collante che rimane lì. L'unica soluzione è quella di rifilarlo con delle forbicine e basta. Per fare un lavoro pulito. Adesso prendiamo le forbicine e lo rifiliamo. Praticamente basta girare intorno in questa maniera. Praticamente basta girare intorno in questa maniera. Siamo arrivati alla fine e come possiamo vedere tutto il collante residuo è rimasto abballoccato sulla forbice. A questo punto il suo pallante è pronto per essere installata la nuova foam. Abbiamo qua la foam nuova, andiamo a posizionarla per vedere se corrisponde le misure. Ok, come si vede perfettamente corrispondente la sua, perciò cominciamo a mettere il collante. Alla prossima. A presto! e adesso cominciamo a farla aderire e adesso faccio un po' di sottotitoli Grazie a tutti. Fatta tutta la circonferenza lasciamo qualche minuto in modo che il collante tiri e poi passiamo a rifarla aderire del tutto. A questo punto il collante è tirato e adesso con il famoso attrezzo angolato andiamo a fare l'ultima pressione sulla foam per farla aderire perfettamente. Si fa girare piano piano. L'importante è controllare mentre asciuga che il cerchio sia preciso intendo che la foam posteriormente abbia lo stesso margine tutto intorno diciamo tra il cono vediamo se riusciamo a vederlo esatto questa parte qui tutta quale tutto intorno come possiamo vedere più precisa è questa e più precisa verrà la centratura ed ecco il cono che la forma incollata adesso è precisa adesso andiamo a darla sotto questo praticamente poi è finito lo vediamo ecco 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 a questo punto andiamo a pisare tutto il cono e lo facciamo aderire che qui stessa cosa fra un pochino lasciamo asciugare qualche minuto in modo che tira il collante vediamo l'ultimo passato mantenendo poi chiaramente la centratura come possiamo vedere finché non asciuga la fono tira ad arricciare verso l'alto un pochino ora che comincia a tirare bisogna controllare la centratura stesso procedimento destra e sinistra non deve toccare la bobina da nessuna parte ok 50 per cento siamo al centro 180 gradi stessa cosa destra e sinistra a 50 per cento ok adesso è praticamente centrato in questo modo si tiene e si dà l'ultima pigiatina alla forma per farla aderire completamente e voilà anche questo è pronto il pallante viaggia perfettamente la curva è precisa ok possiamo vedere il tuo pallante è pronto questo pallante dell'acciario e il modello è il 5527 come possiamo vedere la sigla riportata adesso preparo gli altri e poi li vediamo tutti insieme ed ecco i nostri quattro woofer pronti per essere rimontati adesso andiamo a vedere come rimediare al cupolino schiacciato per sollevare il cupolino ci sono diciamo tre sistemi o con uno scotch si appiccica sopra e si tira di scatto o con una ventosa con la pompa del vuoto oppure si smonta il twitter si smonta la membrana e si riposiziona nella posizione giusta adesso andiamo a vedere con la prima soluzione con il nastro adesivo la prima operazione da fare è quella di intanto pulire dalla polvere con un pennellino tutta la superficie del cupolino e adesso facciamo il tentativo con con il nastro, si posiziona, si pigiona il punto più basso che è quello che è a contatto con il magnete e poi si tira e non viene, vuol dire che parecchio tempo che è in quella posizione e allora ha preso quella forma. Adesso proviamo in questo caso qui a lavarlo con l'alcol e poi lo facciamo con la pompa del vuoto. Abbiamo inumidito il pennellino con l'alcol e adesso andiamo a bagnarlo in modo che si ammorbidisca leggermente la membranina in modo che la ventosa riesca a farla sollevare. Ok, prendiamo la pompa del vuoto e riprendiamo. Abbiamo messo in funzione la pompa, adesso la accendiamo e andiamo con la ventosa andiamo a sollevare la membrana. Accendiamo ed ecco la membrana sollevata. Chiaramente in certi punti è rimasta l'impronta e la piegata però piano piano tornerà. Ed ecco le nostre due casse giario pronte per essere riconsegnate. Saluto tutti al prossimo video.